Musica Salve ragazzi, ben ritornati sul nuovo episodio di Battlefield 5 Stavolta siamo sul 5 di Battlefield Allora, a dire di non perderci troppo in chiacchiere Ci andiamo a fare la nostra campagna Perché la storia di Battlefield, si sa È ancora cosa di emozionante Allora, ci andiamo a fare questa Io ho già provato la prima parte di gioco Ho settato alcuni parametri Quindi direi di andare Eccoci qua, il titolo introduttivo E-Sports No, non è quello Dice Immagino che il volume sarà troppo alto La Frostbite Perché devi siamo trovati in gioco Perdonate l'audio, se sarà forte Io ho abbassato il più che potevo Qui vediamo due soldati La grande guerra terminò con un silenzio assordante Leggo io Il mondo volto a pagina E nel silenzio dimenticammo tutto Questo è Londra LONDRA 1929 Il ambassadore britannico in Berlino ha dato il governo americano una notte final. Tengo che dire ora che questo paese è in guerra con il Alemane. Il mio padre mi ha chiesto se ero davvero pronto per andare a la guerra. Mi ha detto che il buon soldato lo mati senza pensare di suo inverno come un personaggio. Il momento in cui si vede come un uomo, non è più un soldato buon soldato. E io ero un soldato buon soldato. God help me. In tutti i nostri sono le sceglie di un grande grande non definito. Siamo i nostri amici del nostro futuro. E questo futuro deve essere chiuso, sottotitoli, guidato, guidato. Deve essere guidato con la convinzione. La guerra avrebbe spesso tutto il potenziale umano, momenti di gloria, scene da ingo. Vette di coraggio, barate di odio, speranze, tenacia, atrocità, morte. Norvegia, 1940. Ovviamente avete capito che stiamo nella seconda guerra mondiale. questo Battlefield V narra le vicende della seconda guerra mondiale. Questo crede sia l'aurora boreale. Bellissimo. Poi ovviamente Battlefield è sempre stata buona, come dire, a narrare le vicende molto, molto avanti. Incursione notturna sul porto di Narvik. Qua ci sono i paracarutisti. Ok. Siamo atterrati. Possiamo... Sì, andiamo avanti. Allora, forse ci cose. Mamma mia, ho un rinculo star, ma che pazzesco. Avanti. Così si carica. Olè, granate! Olè. Ma volevo ammazzarlo io, però. Io sparo così. Grazie per le munizioni. Andiamo avanti, proseguiamo e vediamo di cosa ci fa. Olè. Adesso ci fa un mamma. Un carro. Sì, usiamo il carro. Bello, vai. Sì, usiamo il carro. Bello, vai. Prepariamoci all'impatto. Prepariamoci all'impatto. Ottica. Ok. Ok. Formazione, guardate. Fuori, fuori, fuori. Fuori. Mamma mia. Fuori, fuori. Fuori, fuori. Fuori, fuori. Voglio abbattere quella torre. Ma... Olè. Abbattuta. Fuori, fuori. Avanziamo, piano piano. Vediamo cosa succede. Ho preso. Vada avanti. Un carro. Andiamo avanti. Vediamo cosa succede... Un carro. Un carro. Olè. È esplosato? No. Sì, è esplosato. Arrivano esplosioni da tutte le parti. Ma... Non vedo niente. Non vedo. Ci hanno distrutto. Malamente. Algeria. 1942. Passo di Kasserin. Sì. Credo che si dica. Uh. Siamo un cecchino. Stabilizza Mirino. La. La. Mamma mia. Oppela. 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 Minchia. L'ho lisciato. Ricarica, ricarica. Ricarica, ricarica. Sul ponte. Sul ponte. Sul ponte. Riuscissi... Prenderlo. Aereo. 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 Madono. Faccio schifo con lei. Che simpatica fotografia. Allora. Così si sale, così si scende. Ok, va. Ma io faccio schifo. Porca puttana. Li odio. I comandi degli aerei li odio. Il controllo della manetta. Ah, ma così si accelera? Così... Ah, così si accelera. Ok. Olè. Mamma mia. Sto vomitando. Allora, così si accelera. Ok. Lo si spara. Lo si ingrandisco. Così. Oh. Stavo provando i comandi. Hamburgo. Intercetta la squadra 14 della RAF. RAF. Eccolo. Oh, buon mio. Vomito. Scoprendo niente. Niente. Ne abbattessi uno. No. Informazione, ho scuola. Beh, ne ho colpito uno. Olè! Ha fondato. Ha fondato. C'è un po' che c'è? Io riuscite a vederli gli aerei nemici dove sono, là, mamma mia, a testa in giù, mamma mia signori a testa in giù. Attenzione, ne ho battuto uno. Ai, attenzione, mi dèi, mi dèi niente. Airmen, infantry, volunteer, conscripts, loro e noi, non c'erano da dove è venuto. Il freddo di morte ha unificato a tutti. Ci hanno battuto. Monte di Mimega. Ah, qui siamo a piedi. Ok, allora. Andiamo qua dove sono i nemici. Mamma mia che rinculo che ha sta ammitragliatrice qua. Eh, magari usiamo un cerchino che... Ahia, 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 ahia. All'altra parte è sempre. Ahia, ahia, ahia. All'altra parte è sempre. All'altra parte è sempre. Un cerchino che... Noi, ahia, 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 ahia. Non è sempre giù. madonna giustamente essendo un prologo è tutto scriptato credo che sia come il primo batte al fil d'uno quindi comunque scusate se parlo poco ma sono talmente preso dai una cosa che man's unworthiest creation what led it back to us does a hidden hand guide it birthing us in violence and blood ending us in fear alone oh mamma ecco sta pistola che cazzo facciamo morisse morisse eh vami vanno ucciso giustamente giustamente il copyright per le canzoni yes vabbè ma niente tanto io lo non le monetizzo i video quindi quindi l'ultimo sempre 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 troppo 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 i fratelli 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 e fratelli fratelli Madonna signori, madonna Battlefield 5 Ok, ci ha portato nel menu principale Direi la prossima Il prossimo video sarà sotto nessuna bandiera Alla prossima ragazzi, ciao ciao Ciao